Ecco le due cose Ma che cazzo fai? Ma la vedi questa? Ma la sei proprio bella Meno male che ho inchiodato Ma forse è quello del basso Ma che cazzo fai? Non voglio eliminare proprio nulla Voglio eliminare proprio nulla Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Un'altra cosa Ma che cazzo fai? Oh, no, no. Grazie. 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 Oh shit, look at that. Do you see that bag? Yes, we do. Look at this. Do you see that bag? Yes. I'm sorry. What the hell do they do? Look at this. What the hell are they doing? What the hell are they doing? Look at this. Ah, viale è un gioco Può parlare un po' con Marco? No, 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 non mi direi che fai sta minchiata, non ci credo Bravo, bravo Ah, vabbè, sì, ma che cazzo, ma non ci credo Vabbè Coglionito di merda, porca puttana My drivers Cazzo fai? Mh Cavalieri per farne la loro nuova sede Ma la cosa più interessante, e il motivo per cui vi infliggo tutti questi numeri È che delle 81 galere del re di Spagna Che testa di cazzo È migliorata, adesso c'è ancora dei alti e bassi Nooo È porco di cazza A sto punto Non basta che vada bene a scuola, che difenda i suoi valori E un modello di equità sociale Che si batta se sotto il naso le si agitano delle ingiustizie Cazzo fai Cazzo fai Cazzo fai Cazzo fai Cazzo fai Cazzo Cazzo fai Cazzo fai Cazzo fai Cazzo fai con la guida che insegna bene che insegna bene se questo è chi fa guardare a Gino e che insegna bene Ma che cazzo fai? No, c'è su qualcosa? Ma che? Ma dai, su, è ridicolo, dai. Ma bene interrogarsi se ha senso pagare con i soldi pubblici un signore che secondo te ha messo in musica, in canzone, delle cose che accadono in Italia, ma se lo facesse... Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!